buonasera a tutti cominciamo con la sedacaca le parole che vengono dal cuore e che non è il cuore mi mette le parole in bocca per condividere quello che studio quelli che sono i miei pensieri quelli che sono le conclusioni non conclusioni perché è un percorso continuo di salita discesa salita discesa salita discesa ancora un po' in realtà si sale continuamente però c'è sempre un movimento così almeno io lo vivo in questo modo in cui penso di essere arrivata invece poi devo ricominciare a trovare qualcosa di più profondo e penso che lo facciamo un pochino tutti sta succedendo un po' a tutti perché fondamentalmente Hashem ci sta forzando a lavorare sulle nostre clipot su queste famose bucce su queste nostre scorze che racchiudono una grande luce un grande tesoro che da qualche parte abbiamo paura di toccare perché sono forme di protezione che ci hanno protetto nella nostra vita nelle generazioni precedenti qualcosa che ci portiamo dentro anche dalle generazioni precedenti che non siamo neanche coscienti di quante scorse abbiamo prodotto da generazione in generazione per far sì che si sopravviva a questo galù di adesso essere pronti a raccogliere la gheula ma non abbiamo idea di come fare e quindi fondamentalmente ci mette davanti a queste a queste scorze e dobbiamo toccarle oggi ho sentito molto carina sbucciare la banana perché se io penso che la banana è la buccia non la sbuccia non beneficio del frutto invece io devo essere cosciente che questa è una buccia che tra l'altro ha delle proprietà sue intrinseche e che sotto c'è un frutto molto dolce e molto nutriente ma che io posso solo arrivarci toccando queste scorze e ogni tanto fa male ed è un lavoro che ognuno di noi volente o volente ognuno di voi deve fare perché abbiamo tutti tutti una questa richiesta necessità di vivere e anche a che fare con un concetto che all'epoca di Mashiach ci sarà la risoluzione dei morti ci sono dei morti che sono veramente morti ci sono dei morti che camminano c'è una persona che non è connessa con la sua luce spirituale o non pienamente connessa o non è nel mio nel mio caso personale non sempre si è connesso ci sono dei momenti che hai dei momenti di grande connessione con il patatrac e quando quindi non è quella sensazione costante di benessere che invece dovrebbe essere una sensazione di gheula la gheula è una sensazione di grande benessere chiamalo così psicofisico stai bene stai bene stai bene e godi della presenza divina dentro di te e nel mondo non c'è dubbio di questo solo che molto spesso non lo vedo non lo sento rientro nella mia situazione di lachat ansia che io devo proteggermi che io devo trovare una soluzione che io mi stacco e non permetto il canale di lasciare di parlare ribadisco che noi siamo l'espressione di lasciare in questo mondo quindi siamo noi che parliamo siamo noi che facciamo siamo che noi dobbiamo agire l'azione la famosa azione ma la differenza è come vivo questa questa esperienza dell'azione e soprattutto se io vivo almeno la realizzazione del mio obiettivo ogni tanto penso che sia nelle mie mani è nelle mie mani ma in realtà non è nelle mie mani quindi mi do troppa responsabilità mi focalizzo troppo su me stessa c'è una componente chiamata così Diego che dice che sono io che devo concludere le cose io devo avere successo io devo concludere io devo trovare le soluzioni io 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 e questo io fa sì che dopo dopo un po' vado in cortocircuito quindi siamo sempre noi Michael Schumacher che lavora attraverso di noi e quando siamo connessi veramente è un'esperienza di vita incredibile soprattutto un'esperienza di vita di grandissimo Avat Israel perché senti le neshama degli altri se tu sei connesso con la tua neshama automaticamente senti le neshama degli altri e quindi entri in tre sei sul treno e ti senti emozionato perché senti le neshama di tutti quanti magari c'è una boletta una più evidente seduta vicino a te ma sei esposto a tutte queste neshama ed è un'esperienza molto molto importante la porzione di oggi della Torah di oggi ho bisogno di accennarlo perché l'abbiamo detto migliori di volte e ci e ci riguarda la porzione di oggi inizia la terza porzione perché oggi cosa dice alla fine 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 spazio chiude che chi ascolta quando sa obbedirà e ascolterà cosa vuol dire obbedire allinearci quando ti allineerai tutti questi comandamenti che in realtà i comandamenti non sono con la frusta è per avvicinarsi a un processo di connessione tutte queste regole tutte queste mitzvot che sono scritte in questa Torah e ritornerai ad Hashem perché cosa fai se rispetti la Torah e lo fai veramente automaticamente ti connetti con Hashem quindi ritornerai ad Hashem non dici scoprirai ritornerai perché la neshama quando è prima di entrare in un corpo è connessa con Hashem beneficia dalla realizzazione di Akash Baruch Hu perché in realtà vuole scendere in questo mondo perché scendere in questo mondo è l'unico modo per salire per fare qualcosa con un giocatore che sta sempre in panchina può allenarsi quanto vuole se non scende in campo non può fare gol per la squadra deve scendere in campo e quindi vuole scendere in campo ritornare a Hashem con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima cosa vuol dire con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima sia con la nostra neshama bemit con la nostra essenza che è una cosa così vitale dove ci sono anche tutte le nostre i nostri no le nostre mancanze il nostro carattere le nostre paure con tutta la nostra anima che è la neshama in realtà il cuore della neshama è già è Akash Baruch Hu quindi in realtà è già connesso ma tutto il resto si deve connettere per questo comandamento che ti comando oggi questo giorno non è nascosta a te e non è lontana è qualcosa che ci appartiene me lo sono dimenticato ma mi appartiene è mio mi sento a casa dopo quando comincio a metterli in pratica non è in cielo le neshamaute in cielo non fanno mitzvot non è oltre il mare quindi la Torah la connessione con Hashem non è al di là non è nei cieli e non è al di là del mare quindi devo andare chissà dove perché la cosa ti è molto vicina lì dove mi trovo è lì che devo lavorare lì le persone che mi sono vicine è lì con quello con cui devo lavorare lì la famiglia che Hashem mi ha dato è lì con cui devo interagire ad avarmi orbe ficha nella tua bocca nel tuo cuore l'assotò per farlo nella tua bocca nel tuo cuore per farlo molto spesso quando arrivo a dire una cosa basta adesso non voglio più fumare succede che non lo faccio più non lo desidero più cos'è il cuore? non lo desidero più e quindi lo faccio la Torah è stata data sia la Torah scritta che la Torah orale questa produzione di oggi è su questa fasuk la Dura Zaken scrive il Tanya come è possibile trovare una connessione naturale questa connessione naturale come Shabbat ci racconta come ritrovarla come ritrovare ritornare ad Hashem veramente e non dover scappare chissà dove ma semplicemente riconnettermi con me stessa perché questo è già implicito è implicito in modo tale che diventi la mia parola la mia volontà il mio cuore la mia emozione ma anche il mio orazione la mia volontà il mio desiderio e poi per farlo la Sirebbe recentemente mi ha detto come sto cominciando a studiare qual è la differenza tra volontà e desiderio quanto è importante la componente di desiderio che stiamo riscoprendo soprattutto in questo periodo di Kablata Mashiach ricevere Mashiach il Rebbe mi dice devi trovare il desiderio di fare di studiare e condividere Tanya e non solo la volontà si devo farlo ho deciso che devo farlo lo faccio no lo desideri voglio che questo momento arrivi perché così posso condividere tutto quello che ho studiato tutte quelle emozioni quelle nozioni che ho assunto e che mi aiutano a fare un piccolo passettino in avanti nella mia quotidianità quindi questa è la passuk la parazione di oggi nella Torah ed è legato a tutto quello che noi studiamo a Tanya e quindi andiamo alla parte di Tanya inizio lettera 17 Gere Takori sono queste lettere che la Nura Zaken ha scritto ai suoi discepoli soprattutto sull'argomento principale che è l'argomento della Zedaka perché la Zedaka è la Mitzvah con la maiuscola perché la Mitzvah di Zedaka Mima la la volontà di Hashem di creare questo mondo Hashem ha creato questo mondo con la volontà di amare di fare del bene di condividere condividere così tanto che si nasconde per permetterci a noi di esistere su Adiso indipendentemente o almeno crediamo che sia così ed è questo Hashem ha creato il mondo come un'espressione di grandissimo amore lo dice Einstein all'ascendo di tutti i suoi studi di tutte le sue ricerche lo dice c'è una forza che è una forza se non sbaglio di onde energetiche in questo mondo che è una forza di grande amore la presenza divina che riempie questo mondo e poi c'è una forza divina che ancora non riempie questo mondo perché questo mondo sennò scoppierebbe se fosse rivelata questa forza divina questa luce divina quello che sta succedendo è che ognuno di noi nel mondo in generale ma noi siamo il popolo ebraico siamo quelli che portiamo innanzitutto catalizziamo questa luce la creiamo la trasformiamo la portiamo giù in questo mondo materiale quindi anche da noi dipende Rosh Hashanah Rosh Hashanah per tutto il mondo ma da noi dipende noi abbiamo bisogno di incoronare il re a Rosh Hashanah perché il mondo ha bisogno di noi che lo faccia noi siamo in parte integrante della creazione e quindi la mitzvah di Mitzlaka viene chiamata la mitzvah perché Mima fondamentalmente è quello che è il principio attivo della creazione del mondo che è una creazione dovuta all'amore chiamola così unilaterale infatti quello che porta la Gheula è l'amore gratuito non conosco questa persona non so chi sia non mi deve niente non gli devo niente e ho deciso di aiutarla aiutarla economicamente aiutarla fisicamente aiutarla spiritualmente non importa quello di fatto di darmi per un'altra persona per il gusto di dare e quindi noi ci allineiamo con quella cosa vuol dire Gheula quindi ci allineiamo con la forza vitale che ha che ha messo in questo mondo sia la forza che mi ma le è quella che riempie questo mondo sia la forza che circonda questo mondo che noi mimiamo diciamo a mimare Hashem in questa bontà unilaterale senza necessità di ricompensa e però l'admura che è parla di ricompensa No data dav ita ruta del tata che adha maurare bilibbo mì data chesed verra chmanut al kola tzrechi lera chami ita ruta de lei la leorare alav rachamim rabbì mimikora rachami ben noto che in risposta a una risveglio dal basso quando c'è un risveglio dal basso dal basso vuol dire dal nostro mondo materiale io mi sveglio la mattina e dico devo fare delle cose, devo cambiare devo cambiare la mia vita, a me è successo tanti anni, un po' di anni fa mi sono vista la mia famosa vita sullo schermo non perché ho avuto un'esperienza in particolare ma successe delle cose che faccio sì che mi sono seduta sul mio letto, ho rivisto il mio filmato quindi siamo a dire il risveglio dal basso che l'uomo si sveglia e sveglia il suo cuore nell'attributo di di bontà e di compassione che è l'attributo di di ferret perché la bontà non bilanciata può essere molto nociva quindi c'è una bontà ma anche bilanciata dalla la compassione che è diciamo così organizzata in qualche modo per tutti quelli che hanno bisogno di compassione il risveglio dall'altro da sopra che risveglio una grande compassione su di lui dalla dalla radice dalla dalla sorgente della compassione il buras ci sta spiegando come funziona ci dice molto spesso quasi sempre ci deve essere un risveglio dal basso ho rotta le uova nel paniere e adesso alzo finalmente alzo le mani al cielo gli occhi al cielo e adesso e possono essere delle esperienze anche molto dolorose psicologicamente fisicamente emozionalmente ma c'è un risveglio dall'altro si dice non c'è un cuore integro come un cuore spezzato non abbiamo un cuore spezzato non abbiamo il naso su non ci interessa di aver ragione vogliamo solo stare bene connessersi con Hashem vedere la buona risoluzione degli eventi quindi c'è l'administra che ci spiega che c'è un risveglio dal basso quando un uomo accende e si risveglia il suo cuore nell'attributo di bontà e quindi quando una persona comincia a svegliarsi e dice wow ci sono persone intorno a me che hanno bisogno di me hanno bisogno della mia ziraka hanno bisogno del mio aiuto hanno bisogno della mia parola di conforto hanno bisogno della mia attenzione qualsiasi cosa sia automaticamente questo risveglia una risposta dall'alto itaruta dell'ela quindi una una a simbiosi una risposta dall'alto che crea una grande compassione su questa persona dall'origine della compassione i frutti delle sue buone azioni li può vedere anche in questo mondo qua perché si dice che la ricompensa della mitzvah è la mitzvah stessa in realtà più andiamo avanti più ci rendiamo conto che la ricompensa della mitzvah non è finalizzata solo all'uamabban dove possiamo testare assaporare e beneficiare tutte queste mitzvot perché vediamo la luce divina che abbiamo creato e godiamo di questa radiazione divina di benessere ma sono alcune mitzvah dove si vedono già i frutti in questo mondo materiale quante volte si dice questo è tzadik ma soffre quanto soffre questo tzadik quello è rasha e sta bene c'è l'ingiustizia del mondo non capiamo noi non capiamo poi dice la moneta c'è una mitzvah dove anche i frutti chiamano così gli interessi si possono vedere già in questo mondo materiale e il capitale il principale si tocca nell'amabah dove si ha una chiara visione di quello che è l'impatto della mitzvah per dare un'idea che una signora una volta ha detto che se non sbaglio ha sognato il suo marito che le raccontava di come no al contrario era mancata la moglie che era una donna di grande e lei li è inutrati nei sogni perché lei voleva che lui si elevasse spiritualmente per arrivare al livello di lei quindi poter stare insieme beneficiare delle stesse radiazioni di vino in Ganede quindi lei voleva che lui sedesse una mossa e le ha rivelato in sogno dice non sai solo per aver fatto il gesto di aver indicato una persona che ha bisogno di aiuto solo per questo non sai il benessere che ha ricevuto non ha ancora fatto niente ha solo indicato da qui lui ha fatto un lavoro e si raccontava di come più tardi in età si è messo a fare un sacco di mitzot perché è ispirato proprio dalla sua moglie quindi nella mitzvah di i frutti si vedono già in questo mondo materiale i frutti si intende il flusso di benevolenza che è che deriva come così dalla dall'origine della compassione quello che è la radice della compassione nei mondi superiori è l'origine quindi si capisce qua che i frutti della 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 tzedakah hanno a che fare con il connettersi con la verità avere molta compassione cioè scende grande compassione quindi cos'è la compassione più grande essere cosciente di cos'è la verità e di avere connessione con la vera essenza della vitalità di non sbagliarsi che siamo molto molto chiaro che cos'è l'origine della vitalità dice che chi fa abbondante tzedakah soprattutto anche per coloro che devono rettificare chi deve rettificare degli errori deve fare abbondante tzedakah perché deve mettere a posto tante cose quando fai abbondante tzedakah anche imparare una parte di Torah diventa si impara mille volte più velocemente perché perché sei connesso con la verità e quindi automaticamente assurbe più velocemente quello che è la verità ci fa meno confondere e questo viene arriva fino in basso in basso che si questa verità questa compassione questo contatto con l'origine la vitalità scende tutti i mondi sappiamo che ci sono un sacco di mondi che l'altra parte abbiamo studiato di Sefirot che si susseguono quindi anche questa compassione che deriva dall'origine della compassione che è la compassione più vera viene traslata fino ad arrivare a questo mondo materiale finché non si veste in questo mondo materiale in tutto quello che ha a che fare con figli la vita quindi benessere e la parnazza sono tre elementi fondamentali nella vita di ogni persona soprattutto di un ebreo i figli la continuità la vita la salute la vitalità il benessere e Mesone è essere la parnazza il suo benessere materiale come si fa a fare non si possono fare in socia non si hanno dei mezzi materiali una persona ha bisogno di una casa per avere dei figli ha bisogno per comprare da mangiare per poter essere sereno per avere quel benessere che mi permette di vivere una vita una quotidianità ebraica soprattutto non sappiamo quanto costa la carne e cacher costa bisogna avere parnazza quindi non è detto che uno fa il grande tracappa e va a comparsela a Ferrari magari sì magari gli serve per fare il suo lavoro spirituale ma quello che scende sicuramente è la compassione più vera che poi si veste in questo mondo materiale che fa sì che la persona riceve grande compassione secondo quello che gli serve è la parte principale è la parte principale questi sono gli interessi che scendono giù nel mondo materiale interesse negli investimenti uno riceve con una certa regolarità questi soldini quindi anche la compassione divina che deriva dalle sfere più alte arriva con una regolarità che lo protegge fondamentalmente ma non per niente perché scende questa compassione a livello nella forma più genuina e si veste in questo mondo materiale quindi ho sentito una storia non mi ricordo dove l'ho sentita che qualcuno doveva andare il giovedì mattina il fratello di una persona doveva andare in un posto e incontra un rav che gli fa perdere tempo fondamentalmente gli fa perdere il tempo e poi dice ok puoi andare e cosa è successo lì dove doveva andare nel momento in cui in realtà era rimasto bloccato da questo rav è successo un attentato qui a Tel Aviv quindi fondamentalmente questo rav è venuto un shaliyah gli ha evitato di andare lì dove doveva andare non è andato fondamentalmente perché Hashem gli ha mandato un shaliyah che l'ha fermato e noi possiamo essere shaliyah di Hashem quando siamo connessi quando siamo shaliyah ma la tzedakama c'è il mimavet perché scende infinita compassione in questo mondo materiale infatti parla quando si parla di una mitzvah sola sappiamo che invece di dire le mitzvot quando si parla di una mitzvot parla della mitzvah di seraka perché in realtà dovrebbe parlare delle mitzvot la ricompensa delle mitzvot si ottiene nell'amabah ma invece no parla singolare però perché la mitzvah per il seraka quando si parla della mitzvah la mitzvah di seraka avrebbe potuto dare una forma plurale il termine esteso non è chiaro e la mitzvot e la mitzvot e la mitzvot e la mitzvah da tzedaka si i mitzvah Hashem e la mitzvah ben detto Hashem noi quando facciamo tzedaka che sia a livello monetario che sia a livello spirituale che sia a livello fisico mi mi amo la volontà Hashem perché quello che Hashem fa continuamente nella sua gloria infinita è di vitalizzare questo mondo continuamente noi siamo che Hashem vitalizza questo mondo senza sosta non solo questo mondo tutti i mondi ma continuamente e questo lo farà nel futuro con una grande intensità e magnificenza e come che chiamo e chiamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come si va di città in città, come per esempio... Questa luce che circonda tutti i mondi. E questa luce, che in teoria non è una luce che è contenibile in questo mondo materiale, perché è una luce troppo potente, c'è una rivelazione divina troppo, chiamata così, diretta per essere contenuta in un mondo materiale, di spazio, di tempo, di finità... Che questa luce dice che si illuminerà e verrà rivellata fino a questo mondo... come una manifestazione futura con la rissurazione dei morti. Come ho detto all'inizio, la rissurazione dei morti è sia quelli veri, ma anche quelli che pensano essere vivi e che non sono vivi per niente. Anche quelle parti di noi, questo famoso Kodesh Elul, Anive, Dodile e Delilic, dove fino adesso non hanno fatto entrare la Crosse Borucur in alcune parti, perché sono paludose. Neanche io ho il coraggio di entrerci, perché come c'entri dentro, ti mangia giù, è una palude. Meglio non toccare quei punti lì che ci sono dentro di noi, sono quasi pericolosi. Invece in questo mondo è un mese di Elul, DAFCA possiamo fare entrare la Crosse Borucur, DAFCA è accessibile, facile. Non dobbiamo aver paura di vergognarci dei nostri angoli paludosi, perché Hashem è lì per scoprire la luce che c'è dentro questa palude. Questa luce che si rivela fino a questo mondo materiale, cosa vuol dire? Una luce che prima non riusciva a entrare in questo mondo materiale, che poi diventa percepibile in questo mondo materiale. anche questo mondo materiale, in conseguenza di un risveglio spirituale, dal che viene dal basso, chiaramente, e che si esprime in ZDAKA e a gesti di amore gratuito. Quindi la risoluzione dei morti è molto, molto a che fare con la ZDAKA? Sia per una persona che pensa che non ha nessun ruolo in questo mondo, ma una persona che pensa che non è importante, e ci dimentichiamo, almeno è stato scritto, ogni tanto si dimentica che tutto il mondo è stato creato per me, e ne me lo ricordo ogni tanto. E quindi non faccio quello che devo fare, non agisco come devo agire, mi sento debole, mi sento non desiderata, inutile. E invece a sciolto ti dici, no, no, sei molto utile, come fai a capire che sei utile? Cominci a fare un po' di ZDAKA, cominci a dare qualcosa, e vedi? Cosa stai creando? Quanto infinito stai creando. E quando dai, quando crei infiniti mondi. Noi siamo arrivati a un punto che abbiamo dato tanto, e continuiamo a dare, e stiamo anche imparando il piacere di ricevere. Noi stiamo imparando a essere dei cli per dare, per dare, ma contemporaneamente chi ci riempie, ci riempie a caro sporcù. E quindi diventiamo profetti, riceviamo la profezia divina e lo diciamo. Siamo tutti un popolo di profetti. L'espressione, diciamo, sublime della volontà di Hashem, Hashem ci usa come canale per dire la profezia. Poi siamo noi che lo facciamo, ma noi siamo un canale. E quindi... E' importante specificare che cosa vuol dire il benessere nel mondo avvenire in Ganedel. Il benessere nel mondo avvenire con la Neshama si stacca da questo corpo materiale, posto che abbia finito il suo percorso, quindi deve andare, deve salire, tra virgolette, beneficia di due cose. Da una parte, beneficia dei, chiamiamo così, dei vestiti. La Neshama si veste. Di cosa si veste? Si veste delle mitzvot che ha fatto, come dei vestiti, e diventa, chiamiamo così, un cli, un recipiente che raccoglie la luce divina. Quanto più una persona ha studiato Torah e ha internalizzato Torah nella sua vita, quanto la Neshama, che sono sempre io, sono sempre io, nella mia coscienza, sono sempre io, beneficio della luce divina perché la riesco a raccogliere. Perché sono un recipiente capiente. Quindi le azioni e lo studio della Torah nella vita di un ebreo si riflettono nell'Olam Abba, nel mondo futuro, per le sue azioni e per lo studio della Torah, proprio perché diventa una, tra virgolette, si raffina, si arricchisce per proprio beneficiare della luce divina. Quindi questo è importante specificarlo. Ma, perché parliamo tante volte di Tichyat Ametim? Perché poi, quando la rivelazione divina, con la venuta di Mashiach, sarà molto più grande in questo mondo materiale, non ci sarà Gan Eden Ketenga. La rivelazione divina in questo mondo materiale sarà così più grande, così più potente, che tutte le Neshamaot, a cominciare a dire Tichyat Ametim, vorranno ritornare in questo mondo materiale, perché in questo mondo materiale si ha beneficio di una rivelazione divina molto superiore. Quindi, paradossalmente, la rivelazione divina più grande, più ultimativa, più genuina, più espressione dell'essenza divina, nel mondo più ultimativo, avviene in questo mondo materiale. La magnitudine e la forza della radiazione sarà più forte che nel Gan Eden superiore e inferiore. La prova di questo perché la Neshamaot di tutti i Zalikim e tutti i Talaim e tutti i profeti, cosa vogliono fare? C'è maata vegan Eden Elyon. Che adesso si trovano nel Gan Eden Elyon, sono al piano attico del Gan Eden, perché è lì che si hanno l'opportunità di stare, perché beneficiano della vicinanza, della radiazione, della luce divina. Gan Eden Elyon superiore, più vicini, sono più alti, tra virgoletti, perché hanno una struttura spirituale con il lavoro che hanno fatto nella loro vita, atto a ricevere più luce divina, possono contenerla, possono beneficiarne di più. sono destinate dal Gan Eden superiore a tornare a rivestirsi in questo mondo materiale, a rivestirsi nei loro corpi, nel tempo giusto, quando verrà il tempo necessario, e si rialzeranno con la risurrezione, per avere piacere, godimento, dallo splendore della Shekinah. perché la Shekinah ci segue, a noi popoli ebraici, noi rappresentiamo la Shekinah, quando noi siamo in esilio, la Shekinah è in esilio. Adesso che noi stiamo accedendo alla Geulah, la Shekinah esce da, e si riflette in uno stato di Geulah, e quindi la radiazione divina in questo mondo materiale, sarà molto più grande di qualsiasi mondo spirituale superiore. e quindi tutti i Zanikim, e tutti i Tanaim, e tutti i Nevim, torneranno in questo mondo materiale. Le Fiscia era a perché la rivelazione presente nel Gan Eden, sia il Tarton che il Lyon, è legata alla luce che si chiama Memalekolamim, quella luce divina che vitalizza questo mondo materiale, e che è presente nel Gan Eden. però che questa luce si ristringe fino a poter entrare in questo mondo materiale, il famoso concetto del SimSum, spiegato dalla Risa. E questo è legato alla Chofmà superiore. Asciama ha creato il mondo con la Chofmà, che la Chofmà cos'è? un lampo, un momento. che la Chofmà cos'è? 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 diciamo Bereshit. diciamo Asciama crea il mondo con dieci frasi, da lì scatolisce tutta la forza creativa, ma dove si esprime la forza immensa che si restringe fino a questo mondo materiale. Si fa molto il concetto del SimSum, della restrizione, perché se Asciama non si restringesse, noi potremmo esserci a livello indipendente, saremmo assolutamente assorbite alla luce divina. Il piacere, di nuovo, stiamo parlando del piacere, Asciama ha creato piacere a questo mondo, Asciama vuole il piacere di risiedere in questo mondo, in modo rivelato, e noi cerchiamo Asciama perché cerchiamo piacere di stare bene legati ad Asciama. Infatti, se noi non stiamo bene, a livello psicofisico, c'è qualcosa nella nostra avodana, nel nostro servizio divino, che deve essere migliorato. Perché se facciamo il nostro servizio divino e vado giusto, entriamo in uno stato di grande benessere. È un lavoro, ma tocchiamo questo stato di benessere. Quindi il beneficio, quindi il benessere della Neshaman, il Ganedam, ho detto che dipende dalla Torah che ha studiato. Quanto ha studiato? Quanto è grande? Il recipiente? Quanto è profondo? Questo pentolone gigante. Perché ha delle capacità che si porta dietro. Chiamano così la nostra Kofma, che noi pensiamo che sia qui, ma in realtà è la nostra Neshaman che gira. È il nostro io, non rimango io. E per questo ogni tanto abbiamo dei déjà vu, ci ricordiamo delle cose, perché sono sempre io, chiaramente bloccato dalla mia fisicità, ma sono sempre io. Ma la rivelazione che ci sarà con la triata ametim, con la risoluzione dei morti, a cominciare dalla mia, da me stessa, che non sono un zombie che cammina, ma sono connetto con la Scema, e quindi sono illuminata, sto bene, sono serena, ho una buona dose di tranquillità, di connessione, di piacere della presenza divina. E io, perché questa forza, che parla di suscitare i morti, ha a che fare con la luce che si chiama e che è una luce che io posso portare giù solo attraverso le mizzozze, no? È troppo alta, è troppo... è aerea. Come faccio a portarla giù? Attraverso le mizzozze. Qual è la mizzozze per eccellenza che me lo fa fare questo lavoro e crea un sacco di... porta giù un sacco di questa luce? La tzedakah. Perché la tzedakah faccio esattamente il lavoro di Akrasbarafu. perché non è passato questa luce che si chiama non è passato attraverso il processo che si chiama non è stata ridotta. È nel suo stato originale, nella sua potenza originale. è senza limitazione, senza fine. Quindi quando noi facciamo la mizzozze di tzedakah, lo facciamo in modo genuino, tocchiamo questo infinito e ci circonda, e circonda la cosa che abbiamo fatto. si dice che lì dove c'è il Beit Hamidash c'erano due fratelli. Uno aveva una famiglia e l'altro non aveva famiglia. E si amavano moltissimo. E ogni notte quello che non aveva famiglia si diceva ma io non ho famiglia, non ho da sfamare tanti bambini, una moglie. Avevano stesso campo. Sai cosa c'è? Sposto il limite del mio campo da dare più spazio e più raccolto mio fratello e così lui avrà più benessere. Io non ho bisogno di così tanto. L'altro fratello con la famiglia la notte si svegliava e diceva io grazie a Dio ho una moglie o dei figli ho tanti piaceri in questa vita, molto benessere da questa mia famiglia. Mio fratello poverino da solo almeno che abbia più beni materiali e decideva così di spostare il confine del suo campo. E ogni notte i due fratelli si rispostavano e finivano uguali ma tutti i due facevano questo gesto di amore unilaterale e da lì nasce e lì si dice che c'è il Betta Mikdash perché proprio dove c'è l'esempio dell'amore può esserci il Betta Mikdash. Il Betta Mikdash è la rivelazione divina a questo mondo materiale e quindi per forza ci deve essere l'amore più ultimativo. Si dice che il Kotel Maravì quello che noi ancora vediamo oggi è il muro che è stato creato dove noi stiamo la spianata del Kotel e dove c'erano gli animali. Ma quel muro lì quella parte di muro lì che è una parte piccolina del muro originale molto piccola si dice che è stata creata stata costruita è stata fatta dai poveri. E quando uno dà tutto se stesso è eterno anche a livello materiale. C'è Eno che Mishma l'avevo studiato anche nella Parashah dei Bikuriz portano le primizze e il povero lo danno in un cesto di Vilmini ed è anche quello che diventa parte delle primizze tutto se stesso. Come se noi abbiamo ripreso dei concetti del Tanja che abbiamo già studiato e ricordiamo che questi sono dei concetti che l'Admorazaken ha già spiegato in precedenza che abbiamo già studiato in precedenza qual è la or la luce di malecolarmim di sovercolarmim la differenza una è filtrata sensumata ridotta l'altra no e quindi portiamo giù qualcosa di originale senza divina in modo originale senza che si deve fare piccola per darci l'opportunità di vivere ma sono tutti concetti che abbiamo già studiato in questa lettera l'Admorazaken li riporta risveglia la memoria sui Talmidim se non vi faccio ricordare cosa abbiamo studiato perché attraverso questa Zerakal l'Admorazaken può mantenere in vita la comunità di Chassidim che è venuta in Israele e che non aveva altro modo di portarsi se non attraverso la Zerakal perché non c'era un'economia indipendente ma qui possiamo apprezzare l'immensità di Erz Israel oggi come quante migliaia e migliaia e milioni di persone possono vivere e la terra da benessere materiale c'è l'acqua c'è l'elettricità abbiamo insomma una ricchezza incredibile benessere incredibile che Erz Israel produce all'epoca dell'Admorazaken Erz Israel era talmente stato per secoli pochissimi ebrei che vivono in Israele che la terra in sé non permetteva uno sostentamento indipendente quindi l'Admorazaken si era presa in carico di mandare dei soldi e questi soldi doveva trovarli e quindi ricorda alle comunità impoverite di sui Talmidim che attraverso questa Zerakal stanno facendo qualcosa di enorme e noi ancora lo viviamo oggi dove ognuno di noi è chiesto lo dico quando parlo con delle persone in America ognuno di noi è richiesto di fare un extra sforzo anche in un periodo difficile dove tanta gente non abita a casa sua dove tanta gente ha avuto delle perdite di familiari dove tante persone magari non riescono a lavorare come prima tanti ragazzi che non possono studiare che non possono lavorare insomma difficile difficile è ancora il fatto di non perdere intensità di continuare ad essere uniti ad aiutarsi anche se hanno ricevuto delle grandi sofferenze che posso regalare un grande benessere fisico e mentale e spirituale e tanta ricchezza materiale e tanto nizzachone l'Amm Yisrael salom b'are salom b'aulam con la geolata amitit veasalema b'simkara b'simkara b'tuv levav shenat ovom etukah kettiva vechatima tova shahem posa sigillare per noi un anno eccezionale di geolah amitit per ogniuno di noi tutt'insieme di grande vittore di grande chiduz shahem di grande revelazione divina di grande onore adhashem al popolo hebraico che ognuno di noi possa risvegliare con serenità la propria proprio amore per asher proprio amore per se stesso la connessione in modo più genuino più vero più facile più sereno possibile come sempre dedico cos'usura mi amore mechal b'tshu al chai adhina bat israel sarah bat iosef david ben iosef sarah ben iosef yom tov ben moshè beserot tovot l'am israel shana tovah wetukah kettiva vechatima tovah prunano geolah amin 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 grazie grazie grazie